Benvenuti a tutti sul canale, oggi andremo a realizzare questo scaldacollo sotto questa richiesta e il punto si chiama punto combo, io l'ho realizzato un giro ma l'idea poi sarà di poterlo fare anche con la lunghezza che voi desiderate abbiamo creato sotto idea di un video di, vi scrivo qua sotto un cinetto d'argento penso sì, il video era materassè, praticamente lei lo realizzava doppio, io l'ho realizzato così ed è molto bello, è piaciuto molto ho utilizzato un filo clinico, la lana caress di tre sfere e ho utilizzato due fili, questo è il punto, si vede benissimo ve lo faccio vedere indossato allora è carinissimo, da regalare per Natale utilizzerete solo 100 grammi del vostro filato che avete scelto il mio consiglio è molto bello, è un punto vedete molto complesso che fa molta figura e regala uno spessore particolare io utilizzerò una lana un po' più spessina per farvi vedere un altro effetto comunque bello, la lana che utilizzerò io è una lana grigia ed è appunto la mineral colore grigio 100 grammi di filati di scout adesso andiamo subito a vedere come realizzarlo, il punto è molto semplice e niente, vi aspetto comunque per il finale dove andremo a dare le considerazioni è molto morbido, potete anche farlo più lungo quindi farlo doppio e la cosa bella è che andremo a volarlo in tondo quindi il punto sarà uguale davanti e dietro ed è bellissimo come idea, regalo Natale, vi aspetto per il tutorial ecco qui, ecco qui lo scaldacono che andiamo a realizzare qua si vede bene il punto combo allora adesso vi dico tutto, io ho realizzato questo scaldacollo utilizzando dei filo acrilico questa è la rimanenza dei 100 grammi praticamente ho messo un verde petrolio la lana si chiama carezza, cares di tre sfere è un acrilico e ho messo anche un grigio, qui potete vedere l'unione quindi ho usato il color grigio e il color petrolio per avere comunque uno spessore di filo maggiore quindi mi piace che abbia questo spessore quindi il punto combo non è nient'altro che un punto facilissimo che si sussegue ed ha appunto questo aspetto di margherita e di spessore al nostro capo bellissimo quindi andrò a realizzarlo, adesso vi faccio vedere con il prossimo filo perché non ho più filo acrilico però io consiglio un acrilico semplicissimo poi appunto utilizzando anche questo lurex è bellissimo l'effetto addosso allora si chiama appunto combo allora io ho fatto uno scaldacollo come vedete a giro giro unico e ho lavorato in tondo adesso vi faccio vedere come farlo faremo un campioncino di una misura più piccola però poi si svilupperà nello stesso modo il modulo che andremo a utilizzare è un 3 e comunque dovete montare catenelle per essere divisibile per 3 quindi un multiplo di 3 vi dico subito la misura del mio scaldacollo che è 25 per 37 diciamo quindi questo fa un bel giro rimane ben morbido avrete visto le foto all'inizio del video adesso cominciamo con questo punto che è un susseguirsi di punto basso mezzo punto e un punto alto che si susseguono per tutto l'intero giro ma la bellezza sarà e adesso vedrete sarà l'unione che darà questa riga praticamente invisibile su questo punto oltretutto il punto è bellissimo anche a rovescio quindi non avrete problemi come lo infilate lo infilate avrete sempre lo stesso bellissimo effetto potete anche realizzarlo a doppio giro quindi scegliete la lunghezza che mettete io ho montato esattamente per la mia adesso poi ve lo dico vi scrivo comunque qua sotto tutte le catenelle che ho messo e andiamo a fare un campioncino quindi faremo un campioncino di 21 punti quindi un multiplo di 3 partirei subito con utilizzerò un uncinetto 5 e mezzo un marca punto che mi serve per marcarmi in giro e utilizziamo questa lana un po' più spessa allora la lana che ho scelto io è di filati discount ha un leggero brillantio ed è la lana che si chiama mineral colore grigio perla praticamente ve ne andrà un gomitolo da 100 grammi perché a me è bastato poi sempre in base all'altezza che decidete poi man mano che proseguite io ho fatto 12 moduli quindi man mano che proseguite scegliete voi come farlo alto come farlo lungo quindi montarete le catenelle per la lunghezza che vorrete allora adesso ci prepariamo mettiamo il nostro gomitolo andiamo a fare le nostre 21 catenelle quindi vado a montare la mia catenella quindi 21 catenelle multiplo di 3 vado a montare le mie 21 catenelle per lo mio scaldacollo avevo montato 150 catenelle quindi per avere la misura che vi ho dato che trovate sempre qua sotto utilizzando una lana più grande naturalmente dovete farvi un campione io consiglio di farvi un campione quindi fare quello che sto facendo io e misurare in modo da moltiplicare allora io ho montato in questo caso 27 catenelle così vi faccio vedere bene come andiamo ad agganciarci a fare il nostro scaldacollo e vediamo quindi ne facciamo uno in piccolo allora montando le catenelle andiamo a controllare di averle tutte nella stessa direzione e andiamo quindi ad agganciarci in tondo quindi vado sull'ultima catenella tranquillamente e faccio una maglia bassissima quindi passo delicatamente il filo dall'altra parte spero che riusciate a vedere bene ok quindi tiro lentamente e praticamente cominciamo a lavorare le nostre maglie una volta che avete montato le vostre catenelle così vado a fare ecco qui nello stesso punto un punto basso quindi rientro nello stesso nello stesso punto e vado a fare un punto basso quindi cominciamo con il nostro modulo ok quindi punto basso poi facciamo un mezzo punto quindi prendo carico il filo e prendo tutte e tre le mie catenelle tiriamo solo bene ok rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta quindi carico il filo maglia alta vado negli altri due occhielli e chiudo il nostro punto quindi abbiamo la sezione del nostro primo ventaglietto quindi abbiamo maglia bassa mezza maglia e maglia alta adesso mi segno con un marca punto prendere il marca punto la prima maglia bassa quindi esattamente qua questo ci servirà poi per quando arriviamo lì adesso salto due catenelle una due vado nella terza e vado a fare il mio punto basso rientro nello stesso punto carico il filo mezza maglia alta sono messa malissimo e poi sempre entrando nello stesso punto maglia alta quindi abbiamo di nuovo fatto la nostra seconda sequenza maglia bassa mezza maglia e maglia alta salto altre due catenelle rientro nel terzo maglia bassa rientro nello stesso punto carico il filo mezza maglia e ancora nello stesso punto maglia alta quindi queste sono le tre maglie che dobbiamo praticamente proseguire per il nostro scaldacollo adesso faccio tutto il giro proseguo saltando sempre due catenelle maglia bassa rientro mezza maglia rientro maglia alta proseguo e ci vediamo qui dove andiamo a cambiare il giro siamo arrivati alla fine del nostro giro vi dovrete trovare con due catenelle se avete fatto i conti giusti se no altrimenti avrete sbagliato qualcosa siamo arrivati al nostro marca punto andiamo leggermente a toglierlo e entriamo proprio in questo punto qui quindi nel primo punto basso quindi entro vado a prendere il mio filo faccio una maglia bassissima quindi passo il filo senza tirare delicatamente ed ecco che ci troviamo in questa posizione qui siamo sul dritto del lavoro questo è proprio l'inizio del nostro punto adesso cosa faccio dobbiamo girare il nostro lavoro però non continuiamo quindi a lavorare in questo senso ma andremo a girare il nostro lavoro ci troveremo con il filo verso di noi quindi andremo da destra verso sinistra quindi andiamo sempre nella stessa direzione ma ci troviamo a lavorare sul rovescio del lavoro ok quindi avremo questo filo davanti cosa facciamo rientriamo nel nostro punto tenendo il nostro filo sul davanti quindi ci giriamo attorno quindi rientriamo nello stesso punto ok passo il filo da dietro e faccio il mio punto basso ok quindi adesso il filo è passato dietro ok adesso andiamo verso sinistra e continuiamo il nostro modulo quindi di nuovo carico il filo mezzo punto punto alto carico di nuovo il filo punto alto salto due catenelle entro di nuovo nel punto basso perché praticamente questo è il primo punto basso che avevamo fatto dalla parte del davanti quindi entro nel punto basso vado a fare il mio punto basso carico di nuovo il filo entro nello stesso punto quindi proseguo col mio modulo quindi mezza maglia alta carico di nuovo maglia alta saltiamo ancora due catenelle 1 2 rivado nel punto basso e vado a fare il mio primo punto del modulo quindi punto basso carico la maglia mezzo punto di nuovo carico punto alto quindi adesso proseguiamo saltando sempre due catenelle entrando nel punto basso sottostante e arriviamo di nuovo qui ah ecco una cosa che non vi ho detto infatti mi sono dimenticata segnatevi il punto basso mettendo il marca punto così sappiamo che quando arriviamo qui dobbiamo di nuovo svoltare adesso vi faccio vedere io proseguo eccoci arrivati al secondo giro siamo di nuovo nel punto del marca punto che vado a togliere entriamo di nuovo in questo punto qui e andiamo a fare una maglia bassissima quindi delicatamente senza tirare passo in questo punto tiro un po' perché così ecco quindi ci siamo riagganciati adesso rientriamo ma prima di fare questo vi ricordate che dobbiamo girare quindi giriamo di nuovo il lavoro e andiamo di nuovo da destra verso sinistra ci ritorniamo di nuovo come prima con il filo di fronte al lavoro e allora facciamo di nuovo lo stesso lavoro di prima tenendolo sul davanti rientro nello stesso punto vedete se riuscito a vedere vado a prenderlo dal di dietro e faccio il mio punto basso adesso ripetiamo la sequenza rientro nello stesso punto vado a prenderlo vado a fare il mezzo punto e maglia alta come prima e non dimentichiamoci del primo punto quindi quello basso di segnarlo con il nostro marca punti adesso rifacciamo la stessa cosa e proseguiamo nel nostro lavoro quindi salto due catenelle vado di nuovo nel punto basso faccio il mio punto basso vedete questa lana quante lucida scorrevole mezzo punto alto punto alto quindi ripetiamo ancora una volta la sequenza insieme salto due punti e vado nel punto basso mi raccomando se vedete che non cadete nel punto basso avete sbagliato i conti quindi punto basso faccio un punto basso mezzo mezza maglia alta e maglia alta vedete che bello si comincia a creare questo bellissimo punto che riuscite a vedere qui quindi in base al filato che scegliete vedete che questo ha un piccolo una piccola fettuccia il minerale è bellissimo questo è un filato che non costa caro è morbidissimo il tatto e sul collo è stupendo poi se non sopportate la lana io vi consiglio gli acritici bellissima idea regalo quindi adesso facciamo la stessa cosa e andiamo avanti nel nostro giro praticamente lo scaldacollo è questo come l'ho finito adesso io per adesso il campioncino il campioncino vi aiuterà poi a decidere la la misura allora parliamo un attimo dello scaldacollo come l'ho finito semplicemente sono arrivata allora intanto ho fatto 12 moduli scegliete voi l'altezza scelto io 25 e ho ripetuto 12 volte 12 giri vedete che la congiunzione guardo dov'è così ve la faccio vedere praticamente qua cercarla perché non la vedrete perché va molto bene questo passaggio di filo questo giro eccola qua e non si vede proprio adesso faccio difficoltà a trovarla anch'io eccola qua fosse riuscita a vederla praticamente qua ok quindi niente questo è il nostro scaldacollo è anche molto bello fatto più lungo ricordatevi il multiplo di tre questo punto combo è bellissimo gli dà questo spessore pazzesco al filo è niente per qualsiasi domanda intanto vi scrivo il link del filato il link dell'altro filato così potete trovarlo questo è più economico questo meno ma comunque pensando che per questo scaldacollo ho usato solo 100 grammi è comunque molto conveniente un'altra cosa bellissima che volevo darvi un'idea è il preziosa di scusate un attimo tiro un po' su così vi faccio vedere questi bellissimi filati il preziosa questo qua anche bellissimo ecco un'idea prendete vi metto anche le due matasse anche il nero bellissimo potete metterlo insieme guardate che bello il grigio e farlo diventare un po' l'urex quindi bellissimo il prezioso argento ve lo consiglio poi un filato di lana morbidissima insieme a questo è bellissimo il mineral colore grigio stupendo cioè è veramente bello anche bellissimo poi da fare il capellino quindi con questo vi saluto vi ringrazio di avermi seguita vi metto adesso lo scaldacollo indossato e niente e vi aspetto per un prossimo tutorial iscrivetevi se non siete ancora iscritte vi mando un enorme bacio un enorme bacio da Ornella e il suo canale Selvaggia Bellezza iscrivetevi e niente al buon lavoro e al prossimo uncinetto grazie per la richiesta e grazie grazie per tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti